La mattina è il gallo, la sera è il lupo, ma che la vuoi smettere? Buongiorno. Buongiorno. Oh, ma non eri morto? E' sulle mie tracce da circa un anno. Cioè te sei scappato per un anno da uno psicopatico e dove ti sei venuto a rifugiare a casa mia, è chiaro? Sei armato, campione? Faccio prima io a prendere la pistola nella fondina di un altro che tu a toccare la tua. E' un buon posto per morire! Che si fa? Niente. Vai piano. Sei una volpe? E' un buon posto per un anno. Ciao! 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 Grazie a tutti.